Canelli, sindaco di Novara, Novara è una delle città pilota che avevamo visto nel video, quello precedente. Dichiaro subito che con Canelli sono in conflitto di interessi per ragioni anagrafiche, perché sono di Novara anch'io, però testimonio che il fatto che intorno alla città ci siano stati, come dire, la possibilità di attrarre realtà imprenditoriali con posti di lavoro importanti che hanno permesso di compensare, almeno in parte, la presenza che è stata declinante negli scorsi decenni della tradizionale manifattura, Novara aveva un'area industriale enorme di manifattura tradizionale, anni 70-80, tessile, meccanico, eccetera, che dava lavoro a 20-30 mila persone, una città di 100 mila, quella roba lì non c'è più sostanzialmente, questo ha permesso, per esempio, una vivacità nel mercato degli affitti, delle case, eccetera, di superare quella fase di stallo. Allora Canelli, visto che siete città pilota, le chiedo naturalmente di raccontare almeno per cenni il progetto, ma appunto sindaco imprenditore cosa vuol dire poi all'atto pratico nella realtà amministrativa quotidiana? Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Ma al netto delle peculiarità, delle caratteristiche locali che ovviamente ogni territorio, ogni città ha nel nostro paese, sono molto diversificate, ci sono città che hanno più tendenze e vocazioni di tipo culturistico, ci sono città che hanno più tendenze e vocazioni di tipo logistico, più di tipo produttivo e manifatturiero, ci sono quelle che purtroppo non hanno proprio niente, che sono state quelle, diciamo così, indicate anche in una recente sentenza della Corte Costituzionale dove dice, guardate che non è che le città magari che hanno difficoltà finanziarie e non riescono a reggere da un punto di vista finanziario è perché c'è solo una mala gestio, è che proprio non ce la fanno da un punto di vista economico e sociale, quindi c'è anche da considerare questo. Però al netto delle varie, diciamo così, differenze territoriali, ci sono degli elementi fondamentali che secondo me valgono per le città, valgono per le regioni, valgono per le nazioni, valgono per i continenti che possono spingere la crescita di un territorio e sono in massima sintesi questi. Primo, il livello dell'istruzione e delle formazioni su un territorio, dell'educazione, è di fondamentale importanza, è basilare. Noi abbiamo un Paese, per esempio, che è sceso nelle classifiche di qualità della didattica a livello europeo in maniera paurosa. Noi abbiamo i giovani del nostro Paese che non leggono più, cioè siamo agli ultimi... Una volta in Italia leggevano tutti, adesso non legge più nessuno. Non lo dica a me che ci campo, quindi... Punto primo, quindi formazione ed educazione, primo livello. Seconda cosa, il livello, diciamo così, di interlocuzione che imprenditori, cittadini, imprese, commercianti possono avere con le istituzioni. È evidente che se c'è una macchina burocratica, come spesso diciamo, che veramente frena l'attività di queste persone in maniera quasi maniacale o fa da deterrente all'arrivo, diciamo così, di persone o di imprese che vogliono investire, è un fattore, diciamo, fortemente negativo per l'attività degli investimenti. Anche, ne parlavamo ieri sera, cioè la qualità e il livello della giustizia, cioè il dover aspettare una sentenza per anni, scoraggia qualcuno a venire, diciamo così, magari ad investire nel nostro Paese. Terza cosa, il livello della tassazione, ovviamente, sul quale i comuni poco possono, evidentemente, hanno pochi margini per poterci lavorare, però su alcune cose sicuramente sì. Quindi, il pagamento degli oneri, per quanto possibile, perché poi anche noi siamo tiratissimi da un punto di vista, diciamo così, della spesa corrente. Quindi abbiamo veramente pochissimi margini. Quarta cosa, il livello degli investimenti diretti esteri. Questo vale per la Nazione Italia, ma vale anche per il territorio in cui vivi. L'investimento diretto estero, a casa mia, è che arriva un'azienda di investire sul mio territorio e la convinco a farlo. Questi quattro elementi sono di fondamentale importanza e inserirli in un processo di programmazione e di pionificazione strategica è di fondamentale importanza per poter rendere il territorio, diciamo così, predisporlo ad avere una maggiore possibilità di attrarre investimenti. Poi c'è tutto il resto, per l'amore del cielo, perché c'è la qualità della mobilità, c'è la qualità, ovviamente, diciamo così, dei servizi, l'ambiente, sicuramente. Ma se vogliamo parlare di sviluppo di competitività, qualsiasi sindaco, secondo me, che voglia cercare di spingere il proprio territorio e tentare di fare il possibile, per renderlo più attrattivo, deve curare maniacalmente questi quattro aspetti. Tassazione, credibilità e livello di interlocuzione con chi vuole venire ad investire, educazione e formazione sul territorio. Faccio un esempio molto banale. Noi abbiamo un distretto della moda, Novara, no? Non so perché si è creato questo distretto della moda nel corso degli anni, quindi c'è Gucci, Versace, fanno i prototipi, no? E si rubano tra di loro i prototipisti, perché ce ne sono pochi. Allora andiamo da loro e diciamo, ma perché invece di rubarli, mettete qualcosina, costruiamo una scuola, realizziamo una scuola per prototipisti? Questi all'inizio non hanno voluto farlo, perché dicevano, eh ma io metto i soldi, poi quello più bravo se lo prende lui, invece quello devo prendere io. Va bene, capito l'antifona. Andiamo a Milano, facciamo una selezione di scuole, troviamo l'istituto Secoli, che da anni si impegna nella formazione nel settore della moda, capiscono, vengono a Novara, fanno la scuola della moda, risultato è su tutte le aziende, sono lì a correre, a fare borse di studio e si sono offerte per fare ovviamente alternanza scuola-lavoro. Adesso abbiamo la scuola di prototipia a Novara, che è unica in Italia. questo mi serviva non tanto per, diciamo così, per cercare di convincere quelle aziende di restare a Novara, di non fargli neanche venire l'idea di andare da qualche altra parte. Abbiamo la logistica, la produzione, adesso hanno anche la formazione mirata, che è la cosa migliore, perché la prima cosa che deve fare uno è cercare di tenere le aziende buone e di eccellenza che ha sul territorio e poi cercare di farle arrivare sicuramente le altre. Quindi questi sono i quattro elementi fondamentali dal mio punto di vista. Sta cosa la può fare da sola una città? Secondo me no. Secondo me ormai bisogna ragionare, città diciamo così, vicino una con l'altra. Quindi io per esempio non ragiono più solo Novara. Cerco di creare relazioni e reti con Bercelli, anche se storicamente come sai benissimo la rivalità calcistica e occhistica non aiuta, però cerchiamo di rafforzare questi legami con Bercelli, con Biella, con Verbagna, perché ormai dobbiamo ragionare come sistema del Piemonte nord-orientale, non come singole città, perché la competitività tra i territori si fa tra sistemi di questo genere. Cioè io posso competere con Monza e Brianza o posso competere con Lodigiano solo se creo le condizioni più ampie territorialmente per poterlo fare, perché l'università se si sviluppa, si sviluppa per tutto il territorio, non soltanto per la città di Novara. Quindi queste sono, diciamo così, secondo me, da un punto di vista della programmazione, quelle che dovrebbero essere le linee guide, che dovrebbero ispirare qualsiasi territorio, al netto ovviamente delle caratteristiche, delle peculiarità che ogni territorio ha. Ma se in una programmazione, in una pianificazione strategica ci metti dentro queste quattro cose, che poi ognuno declina come meglio crede, a seconda per l'appunto delle caratteristiche territoriali, secondo me è una buona base di partenza per spingere sulla crescita e lo sviluppo territoriale. E ripeto, vale per le città, per le aree vaste, per la nazione e addirittura per i continenti. E torniamo al mettersi insieme, che è un po' appunto quello che notavamo prima, che è un cambio culturale non da poco. Lui scherzava sulla rivalità calcistica, ma se noi andiamo a vent'anni fa, quando hanno fatto l'Università del Piemonte Orientale, la lotta fra Novara, Vercelli e Alessandria, su chi prendeva cose, il rettorato, la facoltà X e la facoltà... No? Era una roba tipo la Berlino occupata, allora quel quartiere lì la prendono i russi, quello io prendo... è stata una lotta... Infatti vi ha fatto un po' a tempo a me... Che è una roba, come dire, è venuto fuori una roba che all'inizio... No, però è diventata una forza. No, dopo, però nei primi anni era un bel problema. E soprattutto, come dire, la lotta si inferocì intorno alla sede del rettorato, che era il più importante ovviamente sul piano del potere, ma era forse il meno rilevante, sul piano delle economie territoriali. ricordo questo perché ricordo che è successo non 350 anni fa, è successo 15-20 anni fa, e quindi... No? Ecco, Alessandria, vede che conferma. E quindi questo mettersi insieme, che invece torna in tutti gli interventi dei sindaci, segna un cambio culturale, politico, non marginale. Allora...